Word Processing, Commodore 64 anche per il Word Processing. Dimmi come fai se non ce l'hai. Commodore 64, mai un grande personal è costato così poco. Commodore 64. Ora che ce l'hai, guarda come ci fai. Magic Desk, e tutto è più semplice, perché punti un dito e scrivi. Punti un dito e archivi. Punti un dito e stampi. Più facile di così. E con Commodore hai cento e cento programmi didattici, gestionali, per manager. Commodore 64. Ora che ce l'hai, visto che ci fai. I tuoi figli diventano grandi. Vanno incontro a tante scelte di vita. Tu sei fiero di loro. E li accompagni nelle decisioni importanti. Commodore 64. Commodore 64 è un buon regalo. Per il loro studio, la loro vita. Il divertimento di tutti. Commodore è un buon regalo. Dieta? Commodore 64 anche per la dieta. Dimmi come fai se non ce l'hai. Commodore 64. Mai un grande personal è costato così poco. Ah, hai preso il Commodore 64. Ma lo sai che se prendevi quello della Sirius ti davano una garanzia di 12 mesi? La migliore assistenza è il war processor compreso nel prezzo? Ma papà, lo sono tutti come si compra il Commodore. Sirius, il tuo Commodore vale di più. Quest'anno alla Upim c'è tutto per la scuola. Sì sì, dall'abbigliamento agli accessori coordinati. coloratissimi, allegri, attuali, esclusivi, convenientissimi. E con il grande concorso Upim scuola, con 15.000 lire di spesa, puoi vincere. 200 tastiere Commodore 64. Ehi, arrivano i ragazzi. L'Upim cambia. Cambia in Upim. Fai di più con il tuo Commodore. Scopri tutta la sua potenza. Con il Disk Drive puoi memorizzare velocemente i dati e accedere in tempo reale ai tuoi archivi. Con la stampante, in un attimo, stampi documenti, testi, programmi, grafici, anche a colori. Disk Drive e stampanti Commodore. Fai di più col tuo computer. I tuoi figli diventano grandi. Vanno incontro a tante scelte di vita. Tu sei fiero di loro. E li accompagni nelle decisioni importanti. Commodore 64 Commodore 64 è un buon regalo per il loro studio, la loro vita e il divertimento di tutti. Commodore è un buon regalo Comincia la grande! Wow! C'è Commodore 16! Nuovo, grintoso, fortestoso! E niente costoso. Entra nel futuro con Commodore 16. Giochi, programmi, Basic evoluto, grafica da favola, musica e... Guarda che sistema! Commodore 64 Commodore 64 ti aiuta nella vita, ti aiuta nello studio, ti aiuta in casa e giochi, giochi! Dimmi come fai se non ce l'hai! Commodore 64 Mai un grande personal è costato così poco! Commodore, coppiate! Tira, 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 tira più su! Prendi bonus! Non quello, quell'altro, quell'acceso! Ma svegliati! Attento, attenta la parola, attento! Ma perché? No, ma perché non te lo compri? Eh, vabbè! Ti piacerebbe, amica 600? Perché non te la compri? No, ma perché non te la compri? Amica 500 Dice che il suo è il videogioco più bello del mondo Sarà, però fa solo giochi Io ho scoperto una bomba Commodore VIC-20 Commodore VIC-20 fa di più perché è un vero computer Sa fare un sacco di videogiochi tutti nuovi e divertenti Ti insegna la lingua del futuro Serve in casa A scuola con lui diventi super E costa come un videogioco Oggi puoi scegliere Il favoloso Commodore VIC-20 O l'incredibile Commodore 64 Quest'anno la UBIM c'è tutto per la scuola Sì, sì Dall'abbigliamento agli accessori coordinati Coloratissimi Allegri Attuali Esclusivi Convenientissimi E con il grande concorso UBIM scuola Con 15.000 lire di spesa Puoi vincere 200 tastiere Commodore 64 Ehi, arrivano i ragazzi L'UBIM cambia Cambia in UBIM Ma no, sei una frana Ma usa di più colori Usa rosso Anzi no, il blu Più blu No, non così Più chiaro Più scuro Ma perché? Ma perché non te lo compri, eh? Ti piacerebbe, amica 600 Perché non te lo compri, eh? Vabbè no, guarda anche in blu Vic 20 Il computer più venduto nel mondo Ora che ce l'hai Guarda che ci fai Tanti giochi divertenti Nuovi giochi entusiasmanti Tante cose intelligenti Che interessano tutti quanti Vic 20 Ora che ce l'hai Visto che ci fai? Guarda che ci fai Vic 20 Ora che ce l'hai Guarda che ci fai Tanti giochi divertenti Nuovi giochi entusiasmanti Tante cose intelligenti Che interessano tutti quanti Vic 20 Visto che ci fai? Guarda che ci fai La prima console cd da gioco A 32 bit Ma no, ma togli quel mi Metti dentro un fa Un fa Non così alto quel fa Ma sembra un avemaria Non lo vedi Ma perché? Ma perché non te lo compri? Ok, ok Ti piacerebbe, amica 600 Perché non te lo compri? Fai di più con il tuo Commodore Scopri tutta la sua potenza Con il Disk Drive Puoi memorizzare velocemente i dati E accedere in tempo reale Ai tuoi archivi Con la stampante In un attimo Stampi documenti Testi Programmi Grafici Anche a colori Disk Drive E stampanti Commodore Fai di più Col tuo computer Incredibile Questo favoloso computer rack Per tenere in ordine il tuo computer O questi esclusivi sci Commodore Adventure Sono tuoi Gratis Se compri il Disk Drive O il monitor a colori Commodore Fantastico Questi splendidi sci Questo splendido rack Tuoi Gratis Comprando Disk Drive O monitor È la grande operazione Fai di più col tuo Commodore Gratis gli sci Gratis il computer rack Solo fino al 30 novembre Affrettati Commodore Grazie a tutti